Ciao a tutti, stamattina siamo Brozzo, cerchiamo di fare il sentiero 3D dall'Odrino al Maniva. Sono sulla strada che porta l'Odrino appena partito, arrivati sul sentiero 3D. Ci arriviamo al Passo Cabada, quello è il Passo Cabada, tra poco lo sconteremo. La vita da attacchi Cabada, per Pidre. Per i piedi 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 Per i piedi